E' scattato il ritiro del Pescara nel primo pomeriggio, meglio alle 17.30, il primo allenamento a Palena, seduta che se da poco conclusa vi mostriamo alcune immagini che sono state girate dal collega Francesco Salviani. La rosa cambierà completamente volto ma al momento è nettamente inferiore rispetto a quella dello scorso anno. C'è comunque tempo, l'organico a disposizione del neotecnico Colombo, i portieri Sommariva, Di Carlo e Servalli, difensori De Marino, Milani, Saccani, Gianess, Ingrosso, Veroli, Cancellotti, Rasi e Frascatore, Centrocapisti, Crecco, Germinario, Lombardi, Daloia, Madonna, Amer, Meic, Mora e Giabuà, attaccanti Belloni, Delle Monache, Chiarella, Borrelli, Bocic, Lescano, Blanuta, Amore e Cupone che però arriverà tra lunedì e martedì risolto consensualmente il rapporto con Giambo. Il franco senegalese ha chiesto di essere liberato, è stato accontentato per motivi di natura familiare. Le ultime di mercato per Pezzella ancora una giornata interlocutoria, Delicari aspettava entro la giornata di ieri una risposta del metodista ex Siena che però non è arrivata. Il DS Biancazzurro sembra orientato a cambiare obiettivo. Passi avanti per il 24enne centrale mancino Luca Coccolo della Juve nel cuore del reparto arriverà. Un altro 98. Riccardo Brosco legato al Vicenza da un altro anno di contratto potrebbe tornare a Pescara a patto che contestualmente ci sia un'uscita. In questo caso rischierebbe in grosso. Il classe 89 è ancora un anno con opzione di rinnovo che scatterebbe alla ventesima presenza. Apertura della Reggiana per Radrezza che però ha chiesto dieci giorni di tempo per decidere. La clausola da pagare è circa 70 mila euro. Non sarebbe più un ostacolo. Il Pescara infatti corrisponderebbe la somma in caso di promozione in B. Per il portiere di Gennaro c'è il Placet, l'ok del neotecnico Alberto Colombo. Se non firma col Gubbio, l'ex Inter resterà a Pescara.